Oggi andiamo insieme a scoprire questa bellissima Fiat 500 1.2 benzina 69 cavalli è immatricolata a gennaio 2018 e ha 84.000 km abbiamo questo bellissimo colore verde military cerchi leda del raggio 17 vetri posteriori oscurati e poi abbiamo un comodo e pratico bagagliaio interni in tessuto miso pelle display touchscreen dove gestire l'infotainment clima automatico bilzona e i vetri elettrici anteriori cambio manuale 5 marce e i comodi pratici comandi al volante se volete maggiori informazioni seguireci su ratx.com